la salute del cervello è importante perché ci consente di funzionare bene a livello cognitivo emotivo e sociale permettendoci di condurre una vita significativa cosa può danneggiare la salute del cervello rischi ambientali come povertà inquinamento atmosferico e pesticidi lesioni causate da attività sportive o incidenti malattie non trasmissibili come ipertensione e diabete suggerimenti per conservare una buona salute del cervello attività fisica regolare una dieta sana dormire a sufficienza stimolare la mente